In questo video parlo di un aneddoto, non faccio nomi, non faccio cognomi, ma ti racconto quello che ho visto. Allora, relativamente a quello che ho detto nei video precedenti, cioè che tu non devi far vedere che sei bravo tecnicamente, ma devi far vedere che sei molto attento all'accrescimento, a contribuire musicalmente a quel progetto. Allora, sono andato a fare un'audizione alla batteria per un artista. Durante questa audizione, mentre io suonavo, intercambiavano anche i bassisti, mi stavano sentendo contemporaneamente bassisti e batteristi. Quindi in quel momento io ho suonato con tre bassisti diversi e nello stesso momento si intercambiavano questi bassisti, io rimanevo fermo alla batteria con la band, suonavamo e cambiavano i bassisti. Hanno suonato tre persone, due tecnicamente meno bravi, e uno invece tecnicamente che se li mangiava a mozzichi. Chi hanno preso? Uno dei due meno bravi. Perché? Perché quello che era più bravo tecnicamente ha fatto un gravissimo errore di valutazione. Cioè, ha voluto mettere in mostra la sua tecnica perché aveva notato che gli altri due tecnicamente non erano così bravi. Ma gli altri due invece hanno fatto, e uno soprattutto, quello che poi ha vinto l'audizione, hanno fatto una considerazione intelligente. Hanno detto, io sto all'audizione per lavorare in un progetto musicale, in una produzione, dove c'è un cantante importante, e quindi io devo far sentire che sono bravo a valorizzare la musica che lui ha scritto, non a far vedere che io tecnicamente sono bravo a fare le scale e gli arpeggi sul basso elettrico, o lo slap. Quindi che cosa è successo? Che il cantante ha scelto il bassista che ha suonato meglio quel brano che gli aveva chiesto di suonare, non che ha messo più tecnica all'interno di quel brano. E quindi ecco risolto l'equivoco sulla tecnica. Chi è poi entrato nel progetto musicale? Il bassista che era più al dentro del progetto musicale con la testa, non il bassista più bravo tecnicamente. E quindi io penso che già questo esempio sia più che sufficiente per dimostrarti che il problema non è mai tecnico al di sopra di un certo livello. Perché? Perché una volta che l'artista ha visto che tu il brano lo sai suonare, non ti chiede di fare delle cose più difficili, ti chiede di fare quelle che servono, ma comincia a valutare tutti quegli altri aspetti di cui abbiamo parlato prima, cioè il tuo modo di relazionarti, se sei una persona che crea problemi, se sei antipatico, se sei simpatico, e una serie di altre cose, ok? Quindi questa è una delle storie che ho vissuto in prima persona e che mi hanno, diciamo, fatto capire quanto è importante tenere presente sempre la musica e mai la tecnica. La tecnica è una conseguenza del fare musica, non è il punto... cioè io devo imparare tecnicamente a fare delle cose se servono per suonare. Non devo imparare la tecnica per avere la tecnica fine a se stessa, per far vedere in giro quanto sono bravo tecnicamente, perché? Se no rischi che non ti pagherà mai nessuno per fare queste cose di tecnica. La gente si aspetta che carichi un video su YouTube per avere quei 10 minuti di intrattenimento dove dici, ah mazza, guarda quanto è bravo questo, poi spegni YouTube e finisce lì. Quindi non fare questo errore se vuoi fare il batterista di mestiere, perché l'esempio di questo bassista è emblematico per capire quanto può essere un errore mettere la tecnica al primo posto davanti alla musica, ok? Grazie a tutti!